Ciao, sono la dottoressa Valeria della farmacia Labbrozzi e oggi voglio chiederti se anche tu, come molte altre donne, hai un ciclo mestruale molto doloroso e con sintomi fastidiosi. Uno studio condotto su 3.300 donne ha finalmente chiarito il motivo di questi sintomi. Quindi sembrerebbe infatti che il ciclo mestruale doloroso sia dovuto ad una acuta infiammazione provocata da un biomarcatore che si chiama proteina C reattiva. L'80% delle donne lamenta sintomi quali mal di schiena, mal di pancia, crampi addominali, gonfiore, disturbi del sonno, dolore al seno e la proteina C reattiva sembrerebbe appunto essere legata a tali sintomi. Il mio consiglio è quindi quello di evitare cibi che possano ulteriormente aumentare questa infiammazione. Quindi di evitare principalmente caffè, cibi conservati, mandorle. Ti consiglio anche di assumere magnesio principalmente durante la fase premestruale. E puoi aiutarti anche con delle tisane rilassanti che contengano tiglio e melissa. Ricorda inoltre che anche un'attività fisica praticata in maniera costante può aiutarti a ridurre i livelli di proteina C reattiva. L'infiammazione può essere valutata con un test specifico inoltre e quindi non esitare a chiederci informazioni qui in farmacia. Ti ringrazio per l'attenzione e arrivederci al prossimo consiglio.